Guardia Costiera, Polizia di Frontiera e Forze dell'Ordine Spagnole sono al lavoro da ieri sera per rintracciare un passeggero della nave proveniente da Barcellona e poi attraccata a Civitavecchia, scomparso durante la traversata. Si tratta di un cittadino iberico di 54 anni. L'allarme è scattato quando al momento dello sbarco della Cruise Roma della Grimaldi Lines al Terminal Traghetti l'uomo non è sceso dalla nave e all'interno sono stati rinvenuti tutti i suoi oggetti personali. A quel punto è iniziata un'accurata ispezione a bordo del traghetto che però ha dato esito negativo. Col passare delle ore si è fatta strada l'ipotesi di un possibile gesto estremo dell'uomo che potrebbe essersi gettato in mare durante la traversata nel Mediterraneo da Barcellona all'Italia. Non è però neanche esclusa l'ipotesi che per ragioni di carattere personale, eventualmente tutte da chiarire, il 54enne spagnolo possa essere sceso direttamente a Porto Torres, scalo intermedio tra il porto catalano e quello di Civitavecchia. Al termine dell'ispezione a bordo la nave ha potuto riprendere nella tarda serata la sua traversata di ritorno, diretta nuovamente a Barcellona. Ancora segnali di risalita per il Covid nel territorio dell'azienda sanitaria locale Roma 4, anche se in misura minore rispetto a quanto avviene nel resto del paese e della stessa regione. Il report giornaliero fornito ieri dall'assessorato regionale alla sanità ha evidenziato 138 nuove positività su un totale di 42.000 tamponi effettuati, molti in più rispetto a quelli eseguiti finora nel mese di giugno. Martedì scorso, il 14 giugno, i nuovi contagi erano stati 179 su un complessivo di 27.000 tamponi. Quindi, rispetto ad una settimana fa, la situazione sarebbe addirittura migliorata, anche se i numeri vanno considerati nel lungo periodo e non nel breve. E andando ad analizzare il numero dei soggetti attualmente positivi, si osserva che Civitavecchia si sta nuovamente e pericolosamente avvicinando a quota 300. Il report di ieri parlava infatti di 289 soggetti attualmente affetti dal virus. Un numero che non preoccupa, ma che è comunque superiore rispetto a quello che era stato evidenziato solo una settimana fa, quando si era vicini a quota 200. Dopo quasi tre settimane di bollini verdi e livello zero di attenzione, torna il bollino giallo a Civitavecchia. Il Ministero della Sanità, tramite il Dipartimento della Protezione Civile, prevede per oggi una situazione diversa per la città con il livello 1 di attenzione, che dovrebbe essere confermata anche per domani, mentre per il fine settimana si potrebbe addirittura arrivare al bollino arancione. Il bollino giallo, previsto per oggi, contraddistingue il livello di preallerta, quello che indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore. Non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. Viene quindi consigliato di consultare ogni giorno il bollettino e di informarsi sui servizi di assistenza messi a disposizione nel territorio, di programmare con attenzione gli eventuali viaggi da effettuare e di pianificare le scorte di acqua, cibo e medicinali. Viene inoltre consigliato di identificare la stanza più fresca della casa dove trascorrere le ore più calde della giornata e di prendersi cura di parenti o vicini di casa anziani che vivono soli segnalando ai servizi sociosanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento. Nuovo traffico commerciale al porto di Civitavecchia. Sono iniziate ieri le operazioni di scarico del bitume che a regime dovrebbe vedere l'arrivo di due navi al mese per una movimentazione annua di poco inferiore alle 100.000 tonnellate. Non si tratta di numeri particolarmente rilevanti, ma comunque di una inversione di tendenza rispetto ad un passato recente che ha visto progressivamente scendere i livelli del traffico commerciale. Segnali di ripresa per il traffico commerciale nel porto di Civitavecchia, che è il primo scalo italiano dove si scarica il bitume direttamente sui camion senza passare da depositi dedicati. Il traffico della società Sodeco, che si avvale della Cilp per le operazioni portuali, è stato inaugurato ieri alla banchina 24. Il mercantile Iver Ambassador, proveniente dalla Turchia, è al lavoro per scaricare circa 1.500 tonnellate di bitume fuso 50-70 in modalità Ship to Track, attraverso una tubazione collegata direttamente dalla nave al portale movibile MFR posizionato in banchina. A regime, stando a quanto affermato in un comunicato dell'autorità portuale, dovrebbe attestarsi tra le 70.000 e le 90.000 tonnellate all'anno. L'avvio dell'operazione è stato particolarmente complesso ed ha visto coinvolti, oltre ai dirigenti e ai tecnici di Molo Vespucci, anche l'Agenzia delle Dogane, la Capitaneria di Porto, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'ASL e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto valutare la fattibilità dello scarico del bitume nel porto senza avvalersi di depositi e di un'apposita pipeline. Successivamente sarà convocata una commissione ex articolo 48 del codice della navigazione che con la condivisione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha fornito ulteriori indicazioni al gruppo di lavoro, sulla base delle quali l'autority ha rilasciato l'autorizzazione all'introduzione del traffico del bitume con modalità ship to track. In questa prima fase il nuovo traffico prevede l'arrivo di una nave al mese. Il numero degli attracchi è destinato a raddoppiare al regime, particolarmente soddisfatto il Presidente Pino Musolino per il quale il lavoro rappresenta l'inizio di un'attività unica nel suo genere in tutta Italia ed è l'esempio di come l'attività iniziata per la differenziazione dei traffici si stia concretizzando con tipologie merceologiche e modalità operative nuove e inedite nel panorama nazionale. Secondo Musolino, il porto di Civitavecchia si conferma al servizio non solo della città e del territorio ma del sistema paese, al servizio di quel lavoro che l'Italia deve portare a termine per la ripresa e per realizzare quanto previsto dal PNRR. È scattato questa mattina, poco dopo le 8, per oltre 600 studenti Civitavecchiesi, l'appuntamento con gli esami di maturità, un appuntamento diverso rispetto agli ultimi due anni, contrassegnati purtroppo dalle restrizioni dovute alla pandemia che avevano portato all'eliminazione delle prove scritte. Invece oggi si è tornati al classico tema di italiano. Vari gli elaborati proposti ai maturandi, dalla comprensione, analisi e interpretazione di una poesia della Miri che di Giovanni Pascoli all'analisi di un testo argomentativo, la sola colpa di essere nati, di Gerardo Colombo e Liliana Segre. E ancora è stato proposto un discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica 2021. Tra gli autori delle tracce è anche una novella di Giovanni Verga, proposto anche l'argomento dell'iperconnessione, su come è stata vissuta la prima prova dell'esame di maturità 2022 a Civitavecchia, torneremo più diffusamente nelle edizioni serali del nostro telegiornale. Non uno, bambèn due set sono in questi giorni al lavoro per altre tante produzioni cinematografiche. Si tratta di due film, Devon House e Patagonia, proposti da due case di produzione internazionali che hanno scelto Civitavecchia per girare alcune scene che vedono tra i protagonisti attori e attrici di primissimo piano, come Charlize Theron, Uma Thurman e Henry Golding. Da qualche giorno Civitavecchia è diventata la location di due produzioni internazionali che hanno scelto la nostra città per girare alcune scene dei loro film. Si tratta di Devon House e Patagonia. Nel primo caso parliamo di un film della casa di produzione cinematografica Panorama Film SRL, con il contributo anche della Eagle Picture SPA, un progetto internazionale che vedrebbe la presenza a Civitavecchia anche dell'attrice premio Oscar Charlize Theron, che avrebbe il doppio ruolo di attrice e regista. Usiamo il condizionare perché il set è blindatissimo e le informazioni che arrivano sono scarse. Quello che è certo è che per le riprese cinematografiche gli abitanti di Via Olimpia stanno vivendo una situazione non facile. Dal 14 giugno al 2 luglio, come confermato da un'ordinanza della polizia locale, è stata istituita la sosta vietata con rimozione in Via Olimpia e in Via Tirio Bandiera. In particolare la zona scelta per le riprese è quella intorno allo stadio Fattori, dove ci sono due ville che sono diventate la base operativa del set cinematografico. Demon House in realtà sarebbe il nome provvisorio del seguito di The Old Guard, film d'azione uscito a luglio 2020 che è stato in cima alle classifiche di Netflix in cui la Theron interpreta Andy, un guerriero immortale che ha influenzato la storia per secoli ed è basato sulla serie di fumetti di Greg Rutka. Oltre a Charlize Theron nel sequel sono presenti altri due famosi attori, Uma Thurman e Henry Golding. Non solo Via Olimpia e Via Bandiera però, perché come detto c'è un altro film di cui si stanno girando alcune scene a Civitavecchia. Parliamo di Patagonia, lungometraggio della Wild Side, casa di produzione italiana famosa per la mafia uccide solo d'estate e come un gatto in tangenziale. In questo caso il set è stato allestito tra Via Pierluigi Marchi e Via Alfio Flores fino alla rotatoria dell'Interporto, ma null'altro si sa sulla possibile presenza di attori famosi. Civitavecchia si conferma comunque location ideale per produzioni cinematografiche di alto livello e chissà che in questi giorni, passeggiando per la città, non ci si possa imbattere in Charlize Theron, Uma Thurman, Henry Golding o qualche altro VIP. Il periodo è quello giusto. Sono stati due giorni molto intensi per tre giovanissime ragazze della COSER convocate per il collegiale della rappresentativa regionale classe 2008 che si è tenuto al Palagalli e alla piscina comunale di Anzio agli ordini del tecnico Nicola Izzo. A dare lustro al club giallo-blu sono state Alessia Comodi Ballanti, Lucrezia Puppi e Alessandra Pirone. Le sessioni di allenamenti scremeranno il gruppo, che parteciperà il 6 e il 7 luglio, ad Imperia al torneo Alfredo Provenzali, ideato per ricordare lo storico radiocronista di tutto il calcio minuto per minuto e della pallanuoto italiana. Buone notizie dalla tappa di Coppa del Mondo di Budapest per Tommaso Pampinella. Il paddlesurfer Civitavecchiese ha conquistato la finale in entrambe le gare alle quali era iscritto, ovvero la 200 metri sprint, dove ha chiuso in quarta posizione e la technical race di un chilometro terminata all'ottavo posto. Adesso l'atleta Civitavecchiese inizierà la preparazione per il campionato del mondo, previsto per settembre in Polonia. Grazie a tutti.